Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Giovanni disse a Gesù Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse Non glielo impedite perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchier d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me? È molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola anziché con le due mani andare nella genna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo anziché con i due piedi essere gettato nella genna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo anziché con due occhi essere gettato nella genna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Parola del Signore. Il Vangelo di oggi ci presenta una serie di detti che cominciano con una domanda fatta da Giovanni, che sembra questo apostolo così dolce, così carino, ma invece, insomma, qui ci appare abbastanza intollerante. C'era uno che scacciava i demoni nel tuo nome, ma non è dei nostri, non ci seguiva, non fa parte del nostro gruppo, non è dentro la nostra comunità, diremo noi. A Gesù non importa che sia dentro un recinto. A Gesù importa che c'è qualcuno che scaccia i demoni nel suo nome, che libera le persone. Le persone vengono sempre prima per Gesù, delle leggi, delle norme, delle istituzioni, delle caste. La persona viene prima. Se c'è qualcuno che viene liberato dal male, non è contro di noi, ma è con noi, dice Gesù. Non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Quanto bene c'è nel mondo, quanta gente che non viene in chiesa e magari non è neanche cristiana, eppure fa del bene. Ecco, è questo quello che conta per Gesù. È questa la cosa importante, che il Regno di Dio cresca anche al di fuori dei confini visibili delle nostre comunità, delle nostre chiese. Lo dice anche il Concilio Vaticano II. Il Regno di Dio è più grande della Chiesa. E anche un bicchiere d'acqua fresca, dato con amore nel suo nome, non vedrà persa la sua ricompensa. Che bello. Ogni gesto di amore, fatto nel nome di Cristo, o fatto per amore dell'uomo, non importa a questo punto, ogni gesto di amore rimarrà per sempre. E questa è la grande promessa di Gesù. L'amore vince, lo mostrerà nella sua passione, nella sua morte, nella sua risurrezione. Gesù risorge perché ha molto amato, perché l'amore è più forte della morte. Però, la seconda parte del Vangelo di oggi, il pericolo qual è? Che si sbagli la vita, che si ami, come dice Sant'Agostino, un oggetto, tutti amano, è l'oggetto dell'amore che può essere sbagliato. E allora, con questo linguaggio molto orientale, paradossale, no? Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala, se il tuo occhio, se il tuo piede, il motivo di... Cosa vuol dire motivo di scandalo? È un ostacolo. Lo scandalo è una pietra in mezzo alla strada che ti fa inciampare. Cioè, se, perciò, ci sono delle cose che ti impediscono di amare, che ti impediscono di, come dire, volare alto nella vita cristiana, guarda, mettile da parte, perché, cos'è che conta alla fine? Alla fine conta non sbagliare la vita. Quello che qui dice andare nella genna, cioè, finire la vita nell'egoismo, nell'egocentrismo, nel pensare a se stessi e basta, nel chiudersi, nell'indifferenza, insomma, sbagliare la vita nell'amore, sull'amore. Non riuscire ad amare come Gesù. Ecco, allora, questo pericolo, questo grande, grande rischio di ritrovarsi alla fine della vita senza niente, in mano, l'hai veramente persa, come diceva nel Vangelo dell'altra domenica, chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Chi invece perderà la sua vita nell'amore, nel servizio, nel dono, la ritroverà, ma non solo in paradiso, ma fin da adesso. La ritroverà piena di senso, la ritroverà piena di speranza, la ritroverà come una vita che merita di essere vissuta. neppure un bicchiere d'acqua fresca dato con amore andrà perduto. Questa è la nostra certezza, è la nostra speranza.